Quelle consolazioni reali, di quello stare anche in silenzio, ma stare. È un momento difficile, ma penso, cari Nimba e Peppe, perché voi oggi state vivendo anche un momento di grande consumazione, perché Antonio ha creato qualcosa di inimmaginabile. Guardare questi ragazzi vestiti di bianco, vedevo questo braccialettino bianco che sarà consegnato a chi vuole, in modo particolare ai ragazzi, rappresenta un po' il segno di quello che era Antonio. Antonio era un ragazzo limpido, un ragazzo che amava e che amava anche il suo corpo. La mamma doveva cucinare sempre la cucina a parte. Amava il suo corpo. E penso che oggi il significato di questo nastro bianco, così come il significato delle magliette bianche che hanno indossato tutti i ragazzi, rappresenta questo, il rispetto della vita. Grazie. Grazie.